Musica Salve a tutti ragazzi con una volta bentornati sul canale LeonTrip Bentornati in un nuovo episodio di Resident Evil 4 Remake Siamo ancora qui per continuare la nostra avventura Ashley Buongiorno Ashley Che cazzo va? Ashley Non c'era un easter egg che mi avevano detto che se No eh No Sono state delle balle che ne so Che lei tipo che ne so Si copriva che ti guardava in modo in malo modo Non mi ricordo Vorrei di averlo letto in qualche parte Allora Che se Che cazzo stiamo andando Ashley? No tutta l'altra parte Via Dovevo andare qua Salve straniero Vero? Sì Straniero Dobbiamo andare qua straniero Matalo No Guarda che figo se prendevo quello che ci sta passando davanti No grande Aspetta un attimo c'è il medaglione blu là Lo vedi Ashley Un'altra Alessandrite eh Che cazzo è l'Alessandrite? Non esiste? Esiste? Non so io non me ne intendo Non me ne intendo Allora Qua si va da giù Qua è chiuso Sì Eh Piantala di dire le cose ovvie Ashley sta a dire le cose ovvie Ah Stiamo respirando C'è tipo Cosa così Guarda ho due gambe E io no Io non ho No Sbagliato Non sono O essi incontrata Sono Leon Te credevi te eh Aspetta 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 Leon c'hai la velocità di un bradipo Vabbè Ashley vieni qua Ancora Vabbè la pistola Cioè è l'arma più potente in questo cazzo di gioco Sono la potenza di queste ragazzi eh Fai buchi Ma buchi veri fa Sento un gnic gnic Dove cazzo è? Aspetta un attimo Dopo ci pensiamo Gnic gnic Ashley se togli La testa Allora E che palle Messioni per carabina e coltello da caccia Va bene Munizioni mitragliatrice Ma noi dal mercante abbiamo mica potenziato un cazzo No Ovviamente Che cazzo hai potenziato? Niente Nulla Abbiamo solo Eh Preso dei soldi Fatto la sparacchiata Ma Non mi sembra mica di averli spesi quei soldi Madonna Ma stiamo a posto qua Uno sta qua Forse starà sopra vero? Forse sì No Aspetta un attimo Dov'è che sentivo Gnic gnic Sentilo Ma sono sti cavi Perché io qua tesori No vedi Infatti c'è Non è qua È qua Cazzo ma ci sono Merda Sarà mica qua dentro No Non ci posso credere Vabbè Questi sono le catene che fanno quel rumore Oddio ho preso quello dietro Vabbè Grande Grandissimo E hai rotto le palle E che ti dodi No no io non mi curo Su questo non muore Ok Va bene Perché cominciava già A diventare imbarazzante La cosa Una favola Polvere da sparo ancora Carica sta roba Leon Ok Munizioni per pistola Tac Un'altra munizioni qua Non so dove metterle Allora Allora Merda Troppe armi Che dentro di Rambo Sì Ci vede che nient'altro No Vado vado Allora Aspetta Cazzo Aspetta Hai visto che sei rimboscato? Sì Se rimboscato Sto bene Grazie Cioè ma Lui è sceso da qua E poi è andato qua sotto Guardare che bastardo Se era proprio Infraccicato bene Ho aperto la porta qui Devo chiudere Sto cazzo di Telegramma Vabbè Oddio Una favola Che ha ragione Merda Asti vieni qua Fan culo Asti cosi con lo scudo Merda Basta Mi sono Veramente Spraccicato Che pesetas Paura Allora Eh vabbè Non ho trovato i medaglioni Però Che pesetas Vedete che c'è uno smeraldo Qua Doviamo andare noi Vero Andiamo nello stesso momento Ok Vai Beh insomma Nello stesso momento Proprio eh Cazzo Cazzo Merda 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 Buon mano eh No Ah ok Però c'era Ok Ok Va bene Che va bene Aspetta Madonna I am the fucking check-ins Ma che cazzo Sì è un animaletto Eh Da compagnia Proprio Vieni Vieni Va bene Vai Ok Stesso momento Eh Vai corri Ashley Te la puoi fare Forza Vai Corri Corri Dai Vai così Corri 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 Forza Forza Dai Ecco sono quelli Pappamolla Guarda Dobbiamo fare Il centometristi Guarda come si impegna Anche Ma convinta Proprio eh C'ha un po' Le calze Ecco Vedi Lo sto notando Adesso eh Ho sbucacchiato Adesso Ma ce l'aveva All'inizio Sapete che non mi ricordo Vabbè Stanca eh Quella leva Ok Sì perché se no Ok Andiamo nello stesso momento Sì andiamo nello stesso momento Ok Allora Merda Ah questo è da aprire Merda Oh cazzo No ma che ti hai premuto Aschi Dai Posso fare a me Me la cavo bene Sì Dai Un attimo eh I topi A uno di quattro Eh Vatta la pesca Allora uno è là Aspetta Allora Eccolo qua Sì Spara Spara Lo voglio di cogliere Lì dietro Col coltello Due L'abbiamo Fatti Tutto questo è il mercante Che fine ha fatto Colana barocca Merda Vabbè ci mettiamo Quello che abbiamo Sti cazzi Allora Alla colonna barocca Io ci metterei Allora intanto Questa Poi questa Facciamo così E non abbiamo il giallo Vabbè ci metteremo Il rosso 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 Blu Fa schifo No è una merda così Però eh Mi serve quello giallo Vabbè Ce lo troviamo Ce lo mettiamo Se no sti cazzi Dove cazzo Siamo finiti La sala di controllo Penso Vedere Potremmo anche Aver preso tutto Ma Il topo È 3 di 4 C'è un altro topastro Qui eh Eh Ho capito Ma Se li vedessi Con Che lei La vedo Eccolo Si vedono Con gli infrarossi Perfetto Perfetto L'ennesima Disinfestazione Complete E ok Va bene Non tuori Perfetto 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 Minut lasciala stare o cazzo se per mica si fa così cadma avviso mandami un telegramma è qualcosa no buongiorno ma come cazzo fai con questo dai tiralo ok bene al pescato anche scusami che l'avevo visto tutto bene sembrerebbe anche lì sì è una bastardata metterlo qua questo comunque non mi ricordavo che c'era avanti estendiamo grazie prego un altro di sti cosi eh allora vediamo un po' il primo deve per forza andare messo così così il secondo invece potrebbe andare messo o così o dall'altro lato ok questo deve per forza andare così e quindi questo deve andare dall'altro lato vero assolutamente no 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 faccio capire qualcosa adesso allora il primo no primo no il secondo può andare così sì il terzo può anche essere girato no perché non va più quello potrebbe anche andare a essere messo così ma se io lo metto così ah ok sì vabbè vabbè c'è un po' a caso eh però vabbè era poco ubicato questo allora ah ma siamo tra l'altro obbligati a farlo no sì sì perché sennò chi cazzo esce oddio potresti anche tornare indietro volendo da qua no se noi torniamo indietro da qua andiamo qua se noi andiamo qua andiamo al deposito a me blabla 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 ok e andiamo di qua dai sti che qua non può dire niente da tirare giù eh ah e andiamo dal mercante se no non ci arriviamo hai visto come sono forte? ce l'hai fatta amico ho delle novità solo per te amico vendi scambia potenzia potenzia vendi non avevamo mica beccato quello giallo noi no no becciamo più soldi così signor rimuovi gemme incastona gemme tac 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 59.200 benvenuto ho delle novità per te hai delle novità per me wow vai arriviamo 347.000 anzi fai 350 allora che facciamo cifra tonda e no vabbè adesso ragazzi potenziano qualcosa penso che se no qua ma intanto ripariamo questo riparo questo ma veramente volevo ripararli che cazzo ho fatto? mi raccomando trattalo con cura amico credo di aver aumentato la potenza allora la potenza qua come potenza stiamo apposto un'arma ben potenziata può sopperire a ogni tua mancanza che te ne pare amico un esperto come te dovrebbe notare subito la differenza sì potremmo aumentare la capacità la cosa di tiro cominciamo a capire quali sono i tuoi gusti amico cominciamo a capire quali sono i tuoi gusti amico cominciamo a capire quali sono i tuoi gusti amico quanti colpi mi porta adesso? 60 vabbè non male più velocità di ricarica questo qui è un lavoro di fino straniero i dettagli fanno grande differenza è perforante quindi mi piace è la potenza cioè portiamola almeno a quella del coltello Cristo provala e vedi come va ecco a te come desideravi ok mitraffatto e dai vai provala e vedi come va ma sì dai raga ma che stiamo qua a cincillarsi l'aspetto come te dovrebbe notare subito la differenza ecco a te come desideravi abbiamo fatto spese folli ok ora visto che abbiamo fatto spese folli il mitra lo possiamo equipaggiare e mettere per adesso qua yes ecco questa è la velocità di ricarica massima quindi immaginavo che serviva poi poi ce li abbiamo andiamo col cecchinacchio eccolo là è vero devo fare con la pistola va faccio meglio dai Leon cazzo va bene senti dov'è l'altro allora l'altro dovrebbe stare circa qua in zona eh ma con questo mirino non li vedo quello è il fatto questa là ma è totalmente dall'altro lato dove cazzo stai eh mi sa che da qua non lo vedo ah scusa eh un attimo prego eh cazzo ho lasciato le risorse S non per averle lasciate solo che se le prendevo al massimo io le potevo vendere cioè capite boh ah eh guarda un ascensore già dobbiamo distruggere questo muro va bene guarda se vedo dove cazzo è sto medaglione ma dovrebbe essere qua in fondo ma mica lo vedo eh merda lo sono per cazzo figlio di oh molto bene Leon vediamo tutte le armi cariche ok sto carico yes allora si diceva qua una palla da demolizione ci sto cazzo hai ci penso io ehi fai sul serio è questo che insegna una scuola adesso abbiamo un corso speciale di guida abbiamo fatto due centimetri cazzo bel lavoro Ashley ma non avevo dubbi ma non avevo dubbi un momento che qua è un problema mamma mia ma l'upperrigno chi qui no 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 vabbè senti qua sono rompi palle ok mi sono rotto lo schiva col tondo non funziona a quanto pare sul mio controller perché io comunque lo premo ma non è molto reattivo ah niente è possibile che si è possibile che lo preme proprio qualche proprio centesimo o millesimo di secondo dopo eh però Cristo santo tutte le volte se proprio volete prenderle vi accontentosi a chi ma con chi ce l'ha come che fa lanciare alzi mi stai fuori ma da chi liberati ah da sto qua ma sto imbecille ma che dovrebbero essere perforanti sti cosi Ashley porca puttana io capisco i nemici ma anche tutti ci metti fanculo no è meglio che stia fermo lì perché no questi non li faranno mai no e uno 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 come procede Ashley ho finito prima io di ammazzare i nemici che ho tutto sfondo al muro serio? con una palla da demolizione? madonna ha funzionato serio? allora di qua mi sembra che non ci sia rimasto più niente a parte quella flashbang là che non so dove cazzo sia a quanto pare dall'altro lato della crisantemia ecco l'ho trovata non so dove non so dove fosse allora lo devo andare a prendere credo sì ci ha messo quattro giorni uno strano cadavere è stato avvistato mentre camminavi in giro sembra essere risultato di qualche esperimento immorale qualcuno disposto a fare una configi nemico speciale al laboratorio di incubazione poi ci proviamo dai il laboratorio di incubazione devo tornare fino là sì vabbè facciamo in tempo ora che lei esce in suo ritorni il laboratorio di incubazione ci siamo già tornati cioè c'è un qualche lo aspettiamo l'ascensore è merda sì devo tornare fin lì però la signora mercante me l'hai un lavoro ben fatto merita un adeguato pagamento ho delle novità per te nove allora devo andare di qua giù ok si subito a destra no a sinistra lei è il nemico speciale aspetti un attimo nemico speciale parca troia parca troia è il momento è la madonna il giubbotto è il giubbotto che è messo male no aspetta aspetta che cazzo è stai bene si alla grande andato dentro scusa si è disparato adesso il vetro ma ma serio vabbè il nemico speciale il nemico speciale è battuto però mi sa ma era lui ma si che era lui no ok mangiati questo beh oddio facciamo aspettare un po' vabbè facciamoci qualche munizione va munizioni 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 pistola munizioni carabina che stiamo a fare vieni vieni hai visto Ashley eh torniamo indietro ah peraltro indietro si va qua su giù la destra sinistra ok ci sia fatto una richiesta tu dici eh no modificare un app cominciamo a capire quali sono i tuoi gust ci sono fai buon viaggio si dai vabbè facciamo così allora bella madonna abbiamo uno stack pieno di colpi ah si ok vieni Ashley madonna tu credi beh comunque prima dobbiamo uscire vivi da qui ah sei noioso sono pure noioso sono pure noioso capito no non chiuso se c'era sti strego no vabbè aspetta no vabbè allora a sto punto scusa altre risorse da spero trasporto dell'ambra devo sottolineare che l'importanza dell'utilizzo di estremo cautela del trasporto dell'ambra nel sottosuolo del castello lavorate con estremo rispetto e obbedienza è fondamentale che non disturbiate il suono del sacro corpo ecco di che cosa parlava Luis era questo il sacro corpo bello schifo lì c'è deposito d'ambra c'è il diamantone ok il diamantone dovrebbe essere qua mio carissimo lord chalder esplodo di join a riportarle queste ottime notizie la produzione della variante superiore della plug è ufficialmente in corso se tutto va secondo i piani le assicuro che presto avremo raggiunto il nostro scopo finale la plug è davvero un organismo formidabile ha la capacità di vivere in qualsiasi vertebrato che sia uomo o cane o persino un corvo non esistono altri parassiti simili sulla terra la variante superiore è particolarmente notevole perché può essere assimilata ad un organismo senza causare danni al suo cervello nessuno può contrastare la vostra forza dominante mio signore anzi chi vorrebbe mai opporsi una volta fatta esperienza della gioia assoluta che deriva dall'assenza del libero arbitrio ne sono la prova vivente che ignorante che ero entro pochi giorni avrò finito di somministrare la plaga a tutti i ricercatori di alto grado e finalmente anche loro sapranno ah quando il vostro piano sarà compiuto il mondo intero saprà vedi Annabelle Garcia escudero ricercatrice capo anche lei ha fatto la cagata vabbè ma comunque era controllata non era colpa sua eh qua c'è un deposito d'ambra e qui ci dovrebbe essere l'ambra minerale di cristallo quello qua mazza l'ambra porca trota dove cazzo l'han presa ah erano questi eh prostratele tutte questo è il sacro corpo la divina provvidenza è presto una benedizione profonda per tutti complimenti per il capello comunque io sono Osmund Sadler portavoce di nostro signore e chi cazzo se ne frega me me oh stupidi agnelli perché rifiutate la grazia che senso obbedisci obbedisci alla voce del signore no 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 ok mazza che mira però questo è meglio di Leon chissà che è meglio di te occhio che mi frega il posto niente due colpi aveva dentro sarà no perché noi teniamo la pistola sempre bella carica quindi ed ondiamo questi suoi seguaci lì non hanno fatto proprio una piega comunque vabbè sono tipo tutte marionette però andremo ah si è inceppato mazza che culo si è inceppato il boss orca miseria che buco di culo Leon orca miseria allora anche perché in tutto il gioco non sei mai inceppato con la cacchia di pistola quindi vedete allora se io devo andare dove sono andati loro esatto però direi che è arrivato quasi il momento che ci salutiamo qua perché a parte il fatto che questo me lo ammazzo stealth e devo trovare una macchina da scrivere per salvare posso provare anch'io mi ha dato le munizioni per la magnum questo non è un buon segno ma qua dentro di tipo ok buongiorno vabbè sviluppo delle difese come richiesto la riqualificazione dell'isola in corsa armi e altri equipaggiamenti difensivi sono stati installati per rispingere intrusi arrivati da fuori quando avremo finito l'isola sarà un'immensa fortezza queste diverse queste difese scusate non reggeranno sul lungo termine ma dovrebbero resistere finché non portiamo termine il nostro piano una volta compiuta la missione saremo molto più vicini allo scopo finale di dominare il mondo nessuno potrà opporsi alla nostra potenza Jack Krauser quindi voleva dominare il mondo pesetas povera da sparo e io non ho spazio non ho spazio non ho spazio non ho spazio uguale perché mi ha staccato le munizioni vero? quindi io butto via il mitra quasi quasi lo farei ma ho delle munizioni del mitra sì 11 ho il pesce dai il pesce vabbè prisa ma prisa sagrete pensavo che comunque con un colpo di fucile da cecchino di beccarli tutte e due visto che i colpi sono perforanti e invece non è morto né il primo né neanche quello dietro eh sì mi sarebbe piaciuto arrivare a una macchina da scrivere per salvare i progressi e comunque visto che allora vediamo un po' dove gatto potrebbe essere vediamo un po' potrebbe essere qua no qua ci sono le medagliette operazione javier in pochi hanno sentito parlare scusate in pochi ne hanno sentito parlare anche tra i grandi più alti del governo statunitense non sorprende il fatto che l'operazione non sia stata resa pubblica è stata condotta in segreto e poi sepolta questo poiché è stata disumana tutto è cominciato nel 2002 quando una piccola unità delle frazze speciali statunitense è stata inviata in un'area del sud america la missione era infiltrarsi ed eradicare i cartelli della droga ci sono voluti diversi anni per preparare l'intera operazione e soltanto i soldati più elitari sono stati selezionati per partecipare non so quale sia stato l'esito della missione ma conosco bene il destino di questi soldati a quanto pare l'intera unità è stata spazzata via ad eccezione dell'ufficiale comandante il maggiore Ezra Grauser e non dai cartelli bensì dagli Stati Uniti non poteva essere così difficile estrarre una singola unità sarebbe bastato un solo elicottero ma per qualche ragione le forze armate non hanno agito secondo alcuni la decisione è derivata da una lotta di potere ai vertici del governo altri sostengono che quelle direttive siano dell'ex presidente ma probabilmente non sapremo mai la verità perché è stato tutto insabbiato ma di una cosa sono certo il governo statunitense ha lasciato che quelle persone morissero giovani uomini coraggiosi che avevano dedicato la loro vita alla protezione del loro paese voglio che il mondo sappia di questo crimine non per una mia responsabilità da giornalista ma perché è mio dovere in quanto cittadino americano nota 1 questo documento riguarda l'operazione Javier ed è stato scritto da un giornalista americano ho chiamato non si sa nota 2 questo articolo non verrà mai pubblicato ci siamo già occupati di insomma quello che non si sa quindi vabbè ok sto aspettando partenza per il campus con bersaglio scuotare il bersaglio come al solito fino all'inizio della fase 2 dovremmo esserci almeno 3 all'interno del veicolo becker incluso l'unità eb lo seguirà con un altro veicolo continuare ad effettuare il solito percorso fase 2 fermare il veicolo con la scusa del programma al motore trasferire il bersaglio al veicolo di abel fase 3 l'unità abel cambierà percorso sottomettere e legare il bersaglio nascondere il bersaglio in un grande container fase 4 l'unità di becker creerà un diversivo l'unità di arry si infiltrerà nel database delle investigazioni per disabilitarne la rete fase 5 incontrarsi al punto k9 e trasferire il carico sulla nave quindi erano bene organizzati messa di sì sei stato bravo ad arrivare fin qui in matricola ho preparato un campo di battaglia apposta per noi soldati lavato col sangue di generazioni dei secoli passati hai il posto perfetto per porre fine a quello che è successo due anni fa va bene documento ottenuto io credo raga che qua abbia salvato ah no qua c'è la macchina da scrivere perfetto quindi non l'ha salvato se non l'ha salvato salviamo noi quindi io vi saluto qui vi do appuntamento alla prossima ricordatevi di lasciare like qua sotto se volete scrivermi qualche commento un trucco un suggerimento qualsiasi consiglio è sempre apprezzato questo episodio finisce qui io sono Leon Trip e noi ci vediamo con il prossimo ciao raga ciao a tutti Grazie.